Non ho mai dovuto aspettare Metroman! Per forza, ero un professionista! Ehi, Megamind! Proprio te volevo incontrare. Volendo c'è anche una porta. Hai una vaga idea di quanto a lungo ti abbia aspettato? No, no, capisco perfettamente, però... puoi levarti e sto cercando di battere il record. A farti vedere in giro non ci hai pensato neanche. E quella roba? Dove le hai prese queste cose? Non appartengono a me. Tu le hai rubate! Da paura, eh? No, 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 no! Tu sei un eroe! Essere eroe è da sfigati! Uno lavora, lavora, lavora tutto il giorno e per cosa? Sono stato al gioco solo per la ragazza e invece Roxanne non vuole saperne di me! Roxanne Richie? Già, Roxanne Richie! L'ho vista al ristorante mentre facevo gli occhi languidi a una sottospecie di intellettuale. Oh! È tutta una fregatura! Vedi, io credo che noi dovremo allearci. Tu, aspetta. Cosa? Con i miei poteri e il tuo mega testone domineremo la città! Tu vuoi allearti con me? Ho buttato giù qualche idea per i costumi. I costumi? Tu sei la mente e avrai un piccolo cervello disegnato e porterai gli occhiali. E io che sono super potente avrò due specie di cannoni che... Incredibile! Tutte le tue doti, tutti i tuoi poteri, tu li hai sfruttati per il tuo proprio interesse! Sì! No! Io sono il cattivo! Tu sei quello buono! Io per il male, tu vieni a castigare me! È per questo che ti ho creato! Sì, come no! Tu stai fuori! Ho un padrino spaziale! Sono io il tuo padrino! Figlio, devi essere come me, Jomen! Mi hai ingannato! Oh, dà fastidio, eh! E c'è di più! Sono anche la sottospecie di intellettuale che esce con Roxanne! No! E noi ci sbazzichiamo non stop! Appena ti metto le mani addosso! Sì! Sì, lo so! Ti consegnerai alla giustizia! Oh, non sai quanto mi mancava! E l'eroe sferra il suo primo colpo! Ma il cattivo lo rimanda al mittente! Oh, sì! Dove sei, mostriciattolo? Voglio vedere com'è il tuo cervello tutto spappolato! Mi sei fatto fregare dal trucco più vecchio del mondo! Non è rotto lo blu! My guard! Questo è lo spirito giusto! Parata! Stoccata! Parata di nuovo! Ora sarebbe il caso di sferrare qualche colpo fatto bene! Cominci tu! Ok! Non sono certo di sapere come rispondere! Questo è per avermi rubato la ragazza! Questo invece è per la storia del padrino spaziale! Megamind! Questo è per la madrina spaziale! E hai rendito! Oh, ben fatto! Davvero una battaglia molto, molto bella! È ovvio avrai qualche appunto! Appunto? A suo tempo! Puoi portarmi in carcere? No, 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 no! Pensavo più tipo all'obitorio! Sei morto! Wow, 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 wow! Non funziona così il gioco! Game of! Emergenza a premere! Prova cervelli! Io chiamo il time out! Time out! Time out! Time out! Robo cervelli! Dispositivo di sicurezza! Indovina un po'? Bamboccione! È fatta tutta di rame! I tuoi poteri sono nulli! È lo stesso metallo che ha sconfitto! Metroman? Smettila di paragonarmi a Metroman! Scappa pure, Megamind! Io ti troverò! Siamo salvi! Siamo salvi! Come ti chiami il nuovo eroe? Titan! Grazie! Grazie! Titan ci ha liberati! Oh, io non direi liberati! Diciamo che c'è una nuova gestione! Oh! Grazie a tutti.